Le immagini della divinità sono come le note di una melodia. Tradizionalmente sono disposte sull'altare come la Dea a sinistra e il Dio a destra, seguendo uno schema predefinito. Tuttavia, così come si possono suonare le note di una canzone in diversi modi, così si possono utilizzare i simboli delle divinità in base alle proprie preferenze. Alcuni utilizzano le candele come note per rappresentare specifici Dei e Dee, mentre altri plasmano l'argilla come strumento per creare le proprie interpretazioni di queste divinità, come se stessero improvvisando una nuova melodia. Le immagini delle divinità nella magia sono come i pennelli di un pittore. Sono strumenti potenti che vengono utilizzati per canalizzare l'energia divina e manifestare gli intenti magici. Così come un pittore dipinge con cura ogni linea e colore per creare un'opera d'arte, così gli stregoni e le streghe utilizzano le immagini delle divinità per creare un legame con le forze divine e invocare il loro potere. Queste immagini diventano come pennelli magici, attraverso i quali si dipinge la realtà e si dà forma ai desideri e agli obiettivi. Grazie a tutti!